Attenzione! Prima di iniziare ci teniamo a precisare che non siamo preparatori atletici. Gli esercizi mostrati in questo video sono quelli che eseguiamo nei nostri allenamenti e possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. Eseguiteli con accuratezza in modo da non arrecare inutili danni al vostro corpo. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dedicato al potenziamento delle braccia. Dato che dobbiamo metterci a terra e quindi potreste non vedere le distanze e le posizioni, mi dovrò cambiare i pantaloni solo in via eccezionale, quindi solo oggi. E basta. C'hai la bottega aperta! Eh sì, mi sto mettendo la maglietta nei pantaloni. Per farvi vedere che la pancia non tocca, a meno che non è esplicitamente richiesto, ma non è questo il caso. E vabbè, scaldate i polsi sempre prima di iniziare il potenziamento perché sennò fanno male. I polsi, eh. Tutti a terra, questa è una rapina! È un tutorial. Vabbè, sdragiatevi a terra in questo modo e mettete gli avambracci per terra ben poggiati, quindi dal gomito fino al polso. Dovete indurire bene l'addome e il gluteo, che in gergo poi è la chiappa, e stare bene rigidi e stesi con la schiena. Mantenete questa posizione guardando avanti e cercate anche di fare salita e discesa, quindi su e giù, su e giù. Utilizzatelo per condire gli esercizi nelle serie, quindi tra una cosa e l'altra... Ok. Vi tirate anche su con tutte e due le braccia spingendo e poi quello è il piegamento, quello che farete sempre per allenare bene i vostri tricipiti. Mai fare questi esercizi in apnea, come tutti gli altri, quindi quando si sale l'aria va fuori dei polmoni, quando si scende va dentro. E mi raccomando, fatelo, perché sennò non lavorate bene. In questo caso le mani vanno sotto le spalle, perché questo esercizio serve per i tricipiti e basta anche un po' di petto. Però ci sono anche altri esercizi che vedremo dopo. Quindi, mani sotto le spalle, il peso va controllato solo, esclusivamente con le braccia, e spingete bene anche nella fase di risalita, respirando. Allargando leggermente le braccia potrete utilizzare anche altri muscoli, tipo un po' di petto e... com'è che si chiamano quelli? I dorsali. Ah, e i dorsali. Solo quando le braccia saranno davvero tanto larghe rispetto alle spalle, allora potrete andare con i gomiti un po' verso fuori, perché sennò i gomiti vanno sempre tenuti vicino al bacino, vicino al petto, dipende quanto sono lunghe le vostre braccia. Passiamo ora ad un altro esercizio, i cosiddetti piegamenti a diamante o a... non si può dire. A fregna le pelle. Non ti sta zitto, ti sta... Mettete le mani a forma di rombo o a forma di diamante appunto e posizionatele sempre sotto le spalle, dovrà stare praticamente all'altezza del petto, quindi all'altezza dello sterno se riuscite. E non mettete il culo a papera che non state ad Amsterdam. Ma che c'entra Amsterdam? E' pieno di parcheggi per biciclette. Ma pure a Parma. E allora non state a Parma. Oh. No, ma a Parma ci abbiamo preso una multa. Se siete già pratici di piegamenti sulle braccia, allora dovreste aggiungere delle spinte verso l'alto in modo da intensificare il piegamento. Per fare una serie basta unire tutti quanti questi esercizi che avete visto, quindi si parte con gli avambracci e ci si tira su, anche un po' su e giù, come volete. Spingete bene, le spinte, tutte queste cose che avete visto, fate tipo una misticanza. E invece questa è una cosa nuova, sono i piegamenti a squadra. Si chiudono le gambe, si va su col bacino e in sostanza è semplice, basta tirare su bene il bacino, andare indietro con le spalle, quindi ecco esatto. Gambe leggermente aperte, dietro col bacino, fino al massimo, e poi si poggiano i comiti. Si passa molto vicini con il petto a terra, quasi strusciando, e ci si tira su. Sono degli esercizi quasi scattanti, come dei robot. Ta, ta, ta. Sono tre parti. E fatene tanti di questi. E poi, che cosa? No, 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 no! Yuuui! Questi sono soltanto esercizi semplici di base, che poi andranno aggiunti ad altri di natura diversa, tipo gambe e addome. Per esempio, scendendo, ammortizziamo con la spinta delle braccia e poi ritorniamo su per fare un piccolo salto. Poi dopo faremo anche i squat. Na, 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 Spiderman, Spiderman, na, 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 na. Comunque era Batman. Grazie a tutti.